Marco Maestri Pieri, sei di ritorno fra le tante attività da Coperciano, ho visto varie fotografie, insomma hai avuto anche quest'anno allievi, tra virgolette, molto affermati, gente che ha giocato comunque anni in Serie A. Sì, anche a livello nazionale, ho avuto Vieri, ho avuto Iacuinta, ho avuto Ambrosini, Lucarelli, Galoppa, hanno avuto molti, tutta gente che ha preso patentino e più che altro il loro scopo era questo, poi c'erano anche dei calciatori, la maggior parte che hanno fatto anche la preparazione per restare ancora in attività per cercare squadra. Certamente, poi c'è sempre questa squadra di gente che ancora non è sotto contratto e quindi tu hai avuto modo anche di interloquire con loro? Il calcio penso che sia passando anche questo tipo di attività, è un momento molto difficile perché i ragazzi in giro e a spasso sono molti, sono tanti anche perché le società come hai visto ogni anno ne saltano molte e quest'anno ne sono saltate ancora molte. E' diventato anche questo un mestiere molto a rischio, un mestiere che secondo me troviamo già e non è giusto a 24-25 anni gente senza contratto e non è una bella cosa. Ecco perché io molti anni fa, sono molti anni fa quando facevo questo tipo di attività trovo gente a fine carriera, adesso trovo gente che ancora la carriera magari ancora non l'ha iniziata perché ripeto è diventato un mondo molto 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 rischioso ecco perché non è facile oggi. E' diventato un mondo anche particolare perché pensare 30 anni fa quando hai giocato anche tu, abbiamo vissuto quel periodo d'oro con il campo basso in Serie B, pensare a gente che manovrava le partite, che scommetteva sui risultati, francamente al massimo si giocava la schedina. Io ricordo a Gradi che anche lui purtroppo non c'è più, giocava le schedine, i sistemi, ma mai a pensare all'epoca di andare ad alterare e manovrare dei risultati. Ma vedi questo che hai detto è una grossa veramente vergogna del nostro mondo però ripeto è sempre riferito come io penso a pochi perché la maggior parte e tu lo sai sono sempre persone che credono in dei valori sportivi come devono essere. Chiaramente purtroppo è una piaga che la federazione, le associazioni calciatori e allenatori stanno combattendo anche perché adesso si cerca di entrare nelle società a far capire che oggigiorno qualsiasi cosa possa succedere ci va di mezzo tutta la squadra, non è che ci va di mezzo solo il singolo. E anche questo è importante dare questo tipo di informazione perché quando tu sai benissimo che accadono queste cose di solito non è che si fa singolarmente. Allora ecco che bisogna stare anche molto attenti a parlare, a scambiare informazione. Ai tempi nostri era diverso perché sai benissimo che c'era meno possibilità di poter parlare, non c'era l'uso del telefonino, non c'erano tante situazioni che oggi sono a rischio. Ecco che oggi il calciatore deve stare attendo a tutte queste cose perché può incorrere in situazioni gravi come quelle che abbiamo visto sui giornali e sulla televisione. Ecco che non sono un buon veicolo per questo mondo che è un mondo sempre molto bello e affascinante.